Il nostro compito di residenziale è quello di trasmettere quelli che sono i valori importanti della vita e che poi devono anche essere considerati quelli dell'attività d'impresa, e cioè un forte senso di appartenenza, la cultura del lavoro, l'ambizione di voler vincere e nell'ambizione di voler vincere nello sport non è sinonimo di arroganza, ma significa avere degli obiettivi chiari, delle idee molto chiare che ci portano ad ottenere risultati vincenti. Non dobbiamo nasconderci dietro risultati che ci possono limitare, dobbiamo avere il coraggio di affrontare gli avversari con grande capacità, con grande coraggio, poi se altri saranno più forti di noi evidentemente li faremo i complimenti, però l'asticella deve essere sempre più alta. Porto i saluti da parte del Presidente Stive Zhang, che non ha potuto partecipare a questa manifestazione sicuramente bella e straordinaria, ma che, e lo dico con orgoglio, a nome di tutta l'Inter, non ha mai fatto mancare l'affetto, la sicurezza nei nostri confronti, noi siamo una società veramente a posto, ha fortemente applicato quello che è il concetto importante in un'attività imprenditoriale che è quello della delega, che noi abbiamo saputo gestire ed amministrare nei migliori dei modi, noi gli siamo riconoscenti, a lui e alla tutta famiglia, e alla sua famiglia, per tutto quello che ha fatto nel corso dei danni.